Veniva all'elementare in classe con noi e lei è stata una delle mie prime amichette del cuore. Ci ho passato l'infanzia, stavo facendo sociologia. Lei aveva iniziato a lavorare come educatrice in un asilo e penso che quello era il suo sogno e il suo continuo, lavorare con i bambini. Io con lei ho passato l'adolescenza, era come una sorella per me. All'inizio non si sapeva ancora il nome della vittima, si sapeva solo quella del carnefice. Speravo non fosse lei. L'ho vista nascere e abitiamo qui da sempre. Ho dato lezioni a mio nipote il venerdì pomeriggio. Lui l'aveva ancora visto. Non l'ho mai visto. Quando ho sento la voce del polizio al fuori da mia casa, mi sono sorpreso di cosa che è avuto. Le loro mi hanno detto che c'è un crime per la matura. Mi sono sorpreso di molto perché ho conosciuto il ragazzo da 4 anni. Normalmente viene insieme alla casa, spendere la notte con i miei amici. e qualcosa di così. Era con lui in casa. Prima di tutto, pensavo che era il suo padre. Perché lo so che il suo padre è forte e alto. Ma il prossimo giorno, quando parlavo con la polizia, mi diceva che era il figlio di lui. Veniva all'elementare in classe con noi e lei è stata una delle mie prime amichette del cuore. Ci ho passato l'infanzia e i suoi genitori sono delle persone meravigliose. La settimana scorsa l'ho vista qui e ci siamo salutate. Ci volevamo sempre bene. I cuori che ci siamo mandati, le ultime parole che ci siamo dette su cosa volevamo fare quest'anno, che lei voleva andare all'università, infatti era riuscita ad entrare. Stavo facendo sociologia. Lei aveva iniziato a lavorare come educatrice in un asilo e penso che quello era il suo sogno e il suo continuo, lavorare con i bambini. Fa solo tanto male. Io con lei ho passato l'adolescenza, era come una sorella per me. Ero giù a Sarno da mia nonna, mi ha chiamato una mia amica. All'inizio non si sapeva ancora il nome della vittima, si sapeva solo quella del carnefice. La loro relazione credo che la conoscessero tutti, cioè stavano insieme ormai da un sacco di anni. Speravo non fosse lei. In chiamata con questa amica è uscito il nuovo articolo in cui veniva detto anche il nome di Sofia. e sono tornata la mattina dopo. Mia nipote ha 18 anni e lei 20, per cui lei lo faceva sempre giocare a scuola. L'ho conosciuta da quando ero più piccolo. Non era mai triste, rideva sempre. È due giorni che Cologno parla ogni momento di questa situazione. È drammatico.